E blackout in corso Vittorio Emanuele a Barletta, le insegne delle attività commerciali sono spente e le saracinesche abbassate. I titolari per strada non lavoreranno perché i clienti, dicono, comunque non raggiungeranno i loro negozi. La strada è chiusa al traffico e lo sarà per tutti i fine settimana dalle 9 del mattino fino alle 23, così come ha deciso il sindaco Cagnito. Stamattina era vuoto, assolutamente. I commercianti hanno avuto telefonate dai loro clienti che non sapevano come arrivare, se ne sono andati. Arrivava da Canosa, non trovava parcheggio, poverina, ci ha messo un'ora per arrivare qui in centro. Si può solo fare un tentativo che però andrà solo a nostro discapito perché non potendo la gente accedere facilmente ai nostri negozi andrà altrove. Un bilancio decisamente negativo, dunque, stando a quanto dichiarano i commercianti, per il primo cittadino si tratta di una terapia d'urto per abituare i barlettani a fare a meno dell'automobile. Due le ragioni, una ambientale per limitare il più possibile l'emissione di gas, l'altra puramente estetica, Corso Vittorio Emanuele, vuole essere il salotto bene della città. Il salotto va bene ma deve essere servito. Mi piacerebbe avere la zona pedonale, ma che sia una zona pedonale bella, così come penso che sia bello il salotto del sindaco, dove ci sono delle poltrone, delle piante. Qua non c'è una panchina, non c'è un albero, alberi che dovrebbero essere piantati nella città di Barletta per renderla veramente verde. Perché spostare il traffico in altre strade non serve a rimuovere lo smog, serve soltanto a spostarlo.